destra 5 in tre tempi subito a sinistra 5, meno meno tieni 30 imposta tanto destra 3, meno lunga, 3, meno lunga imposta sinistra 3, stringe 3, stringe, subito a destra 6 30, tornante destro 150 agli alberi, tornante sinistro e destra 6 e sinistra 6 lunga per attenzione imposta tanto destra 3, stringe, occhio esterno subito a sinistra 4, più apre 6, per imposta destra 6, subito a sinistra in destra 5, subito attenzione tornante destro 20, tornante sinistro 30 ritarda sinistra 4, taglia subito a destra 3, buona stringe 3, buona stringe 30 sinistra 4, più corda tieni 200 a sinistra attenzione destra 3, più taglia subito ritarda, sinistra 3, stretta 30 sinistra 2 sinistra 2 sinistra 2 in destra 3, taglia 20 attenzione, bivio in destra 3, meno poi corda 100 100 imposta destra 3, taglia subito a sinistra 3, chiude poco 3 chiude poco e imposta destra 4, meno 100 imposta destra 3, buona stretta e sinistra 2, gira sinistra 2, gira sì per sinistra 2, più stringe poco 2, più stringe poco 50 imposta tanto destra 3, gira poco 50 imposta tanto sinistra 5 per sinistra 4, corda avvalamento e imposta destra 3, stringe tanto destra 3, stringe tanto per sinistra 6 per destra 6, lunga attenzione, poi poi chiude 2, più attenzione, poi poi chiude 2, più per sinistra 3, tieni 3, tieni 30, imposta tanto destra 3, chiude poi dentro chiude poi dentro e sinistra 4, lunga vai chiude 3, meno, meno a fine muro dentro 100 destra 4, più chiude 2, meno 4, più chiude 2, meno 20 sinistra 2, gira poco 2, gira poco per destra 3, sì e ritarda sinistra 2, più, più lunga 2, più, più lunga e imposta tanto destra 3, corda sì, subito sinistra 3, meno stringe 3, meno stringe 70, al blu imposta destra 2, più buona no 2, più buona no per sinistra 5 al cartello 150 sinistra imposta sinistra 4, non ritarda chiude 3, meno meno al muro dentro per sinistra 3, lunga e attenzione destra 2, gira e attenzione destra 2, gira 70, sinistra al muro sinistra 2, gira chiude la corda subito destra 1, gira subito destra 1, gira 200 a destra ritarda sinistra 2, più, gira poco 2, più, gira poco 100 sinistra 3, interna sporca per attenzione destra 2, più, più attenzione destra 2, più, più chiude 2, meno chiude 2, meno 30 sinistra 3, meno meno, gira e destra 3, lunga attenzione subito sinistra 2 attenzione subito sinistra 2 per ritarda destra 3, stringe 50 vista imposta tanto destra 2 imposta tanto destra 2 per destra 6 e sinistra 6 sfiora 30 rail imposta sinistra 2 sì sinistra 2 sì e destra 6 100 sinistra tieni giù attenzione destra 2, più, vai destra 2, più, vai e sinistra 6 in destra 3, stringe subito sinistra 2, gira subito sinistra 2, gira per destra 4, più, 4, più e sinistra 5, tiene bravo 12 più o meno 12 16 15 14 15 15 16 16 16 17 18 23 Grazie a tutti.